I risultati possono essere diversi da come uno si immagina. Quindi noi dobbiamo pensare secondo me a noi stessi e ripeto passa tutto da mercoledì. Se noi mercoledì vinciamo allora abbiamo buone possibilità di salvarci per quello che mi riguarda. Se noi mercoledì non vinciamo secondo me è finita. E' finita. Questo è quello che penso. Al di là se poi il Geno, il Torino o altre squadre. Matematicamente proprio penso che non ce la fai. Poi non so se sette punti possono bastare o meno, però più ne fai meglio è. E quindi già farne tre mercoledì sarebbe il massimo per noi. Noi come Palermo abbiamo veramente la fortuna e dico la fortuna di chi è passato qua prima, in passato, chi c'è in questo momento. E penso anche che chi arriverà in futuro. Palermo ha la fortuna di avere una dignità come squadra, un'onestà come squadra. E si è visto in tutto il calcio scommesse decine e decine di squadre tirate in ballo. Che poi, guarda caso, ha pagato una sola. Perché effettivamente ha pagato solo in lecce di questa cosa. E l'altro non è successo niente. Il Palermo come nome e come squadra non c'è mai stato in mezzo, mai. Anzi, c'è stato per me, perché ho sbagliato il rigore. Grazie a Dio ho fatto perdere le scommesse. Immagina se lo segnavo. Quindi forse è stato il rigore che ho sbagliato più, nonostante l'abbia sbagliato col Bari. Penso che quello è il più bello della mia vita. E quindi noi abbiamo la fortuna di avere comunque una dignità come squadra. Ieri siamo andati, ci siamo giocati la partita. Sullo 0-0 abbiamo preso un palo. Ripeto che se quella palla va dentro non sappiamo come può finire la partita. Abbiamo subito un torto perché effettivamente abbiamo subito un torto. Nessuno è andato a pallare a fine partita, è andato solo il mister. Quindi non so, questa squadra più di così cosa deve fare. È normale che adesso io da capitano vengo il giorno dopo e io mi gioco la vita. Per me sarebbe stato un punto non importante di più. E quindi questo sfogo ci sta anche, vedendo poi le immagini e vedendo il rigore che abbiamo preso. Però penso che come serietà e come dignità di squadra è meglio andare avanti così. Giocarsela sempre. Io penso una cosa, serie A, serie B, tutto quello che è. Però avere un'onestà, una dignità riconosciuta da tutti, secondo me è più importante di queste altre cose. Il Palermo è sempre il Palermo, sia in serie A che in serie B. O in C o dove andrà. Questa è la cosa importante. E noi siamo fieri di portarlo avanti così. Sì, ma forse lo scoramento c'è, ma non tanto per i risultati. Cioè quello che c'è dentro la squadra. Io non penso che tanta gente si aspettava che il Palermo andasse a Torino a vincere la partita. Cioè perché alla fine siamo tutti molto realisti. Quindi andiamo ad affrontare una squadra che non l'ha mai perso in casa quest'anno. Forse con l'Inter solo. E con la Sampdoria, è vero. Però hanno preso 18 pali e 7000 traverse. Quindi voglio dire, nessuno si aspettava chissà che cosa. Il problema è un altro. L'escoramento c'è perché nessuno si aspettava, no. Però nessuno pensava di poter andare a perdere così. Forse è quello che la gente è scoraggiata come lo siamo scoraggiati noi. La squadra deve arrivare con la stessa mia voglia, determinazione. Quindi abbiamo tutti lo stesso pensiero. Ci sono pochi giorni, quello sì, tanta gente deve recuperare. Io per primo e tanti altri. Abbiamo pochissimi giorni, ma mercoledì si deve cancellare tutto. Quindi la squadra arriverà alla partita di mercoledì con la consapevolezza che è veramente l'ultima spiaggia. Quindi arriverà sicuramente concentrata al massimo e arriverà a giocarsi questa partita fino all'ultimo. Poi, se gli avversari sono più bravi di noi, gli diamo la mano. Ci facciamo mea colpa tutti quanti. Dal primo all'ultimo è andata così. Però fino a quando l'arbitro non fischia e fino a quando non è finita, noi dobbiamo andare avanti fino alla fine. E dobbiamo andare avanti con la convinzione di quello che abbiamo fatto queste ultime sei partite con il mister. Questo è. Se facciamo così, già siamo a un buon punto. Con San Nino avevamo fatto un programma sia in ritiro di tutto rispetto. Forse qualcuno non l'aveva capito la persona che era e si è arrivato ad una conclusione. Ma perché forse non ha avuto neanche il tempo di farsi capire e di farsi dimostrare quello che poteva dare o la persona che era. Perché se poi alla fine tu vedi, perdi in casa con il Napoli. Il Napoli secondo in classifica ha 60 punti di vantaggio rispetto a noi. Vai a Roma con la Lazio e perdi. Vieni in casa il Cagliari, vinci 1-0 fino al 92esimo, poi pareggi. Gono annullato a Donati regolare. Guarda caso, i discorsi che ho fatto prima. Non penso che non ci poteva stare. Quindi magari un pochettino di tempo se lo meritava anche. E conoscendolo, conoscendolo com'è, al di là dell'allenatore, che uno può avere le sue idee o l'altro, ma come uomo, come persona, se restava con noi dall'inizio fino adesso sicuramente questa squadra non stava a questo punto. Ma lo dico non perché ci è passato da qua, perché ognuno a modo suo ci ha dato una mano come allenatore. Io parlo con il rapporto che si può creare fra noi e lui, quello che si è creato quest'ultimo mese. Perché noi siamo tutti una cosa. Cioè noi non lo vediamo come un allenatore. Lui è un nostro compagno, un nostro allenatore, è un nostro amico. E questa è la cosa bella che lui ha creato in questo ultimo periodo. Che se la creava magari sei mesi fa, sicuramente con quello che abbiamo e che le qualità che ha questa squadra, sicuramente non stavamo in questa situazione. Cioè io per salvarmi o che il Palermo possa restare in Serie A potrei fare qualsiasi cosa. non c'è una cosa che non farei. Quindi non lo so. Farei di tutto. Che devo fare? Non lo so. Dimmi tu una cosa la faccio. Basta che ci salviamo.